Una nuova iniziativa della WebTV Piero D'Assaronno, un ciclo di quattro incontri potremmo dire per una breve storia dell'urbanistica, quattro modelli di città che nel corso dei secoli si sono sviluppati fino ai nostri tempi. C'è da dire che il primo incontro che è stato realizzato a Cislago per un imprevisto, per un contrattempo, non è stato possibile realizzarlo seduta stante durante appunto la serata stessa e quindi recuperiamo adesso in studio questo primo momento sulla storia dell'urbanistica di quello che è il mondo greco, mentre sono già visibili sul sito Piero D'Assaronno la città romana e proseguiremmo con gli altri incontri. Bene, il primo incontro sulla breve storia dell'urbanistica con un titolo forse un po' suggestivo, Dalla città reale alla città ideale, ha per oggetto quella che è stata l'urbanistica del mondo greco. Il mondo greco in qualche modo ha saputo pensare, ha saputo realizzare quella che era l'organizzazione cittadina secondo alcuni criteri che appartengono a quello che è la teoria, la grande capacità speculativa e filosofica della cultura greca. E allora vedremo proprio da questa serie di diapositive che saranno presentate durante il nostro filmato, quelle sono state le caratteristiche della città nel mondo greco. I greci avevano stabilito come elemento fondamentale una tripartizione di quello che era il tessuto urbano di una città. Generalmente mettevano nella parte più alta della città la zona chiamata Acropoli, che vuol dire la parte alta della città, ricordando che il termine polis in greco vuol dire città. Quindi era il luogo destinato in origine a quello che era la presenza dei palazzi dei sovrani e successivamente, quando nella storia greca si arriverà a una forma di governo più partecipata a livello popolare, non dimentichiamo che i greci sono gli inventori di tutto il lessico della politica, monarchia, aristocrazia, oligarchia, democrazia, sono tutti i vocaboli che derivano dal greco, che sono l'articolazione di quelle che sono le esperienze appunto della politica nella città greca. Dicevo, i greci avevano stabilito nella Acropoli, la parte alta, il perno più importante di quello che è il centro cittadino. Se un tempo era la sede dei re, divenne successivamente la sede delle divinità, dei templi, dei luoghi di culto della città greca. Poi nella parte sottostante a questa altura che sovrastava la città, crearono quella che veniva chiamata la Stu, altro termine che diceva città bassa. Nella città bassa noi potremmo parlare di una vera e propria zona residenziale e tutto attorno a quello che era il tessuto urbano della polis greca stava appunto quella che si chiamava la Korà, cioè il territorio, il luogo dove si lavorava la terra per sostentare la popolazione cittadina. Come si vede appunto in questo primo schema, che è molto sintetico, abbiamo la parte alta dell'Acropoli, abbiamo l'Astu, che è la parte residenziale bassa, e poi il contado, la Korà. In quella che è la zona del Astu, la zona residenziale dell'abitazione dei cittadini greci, si crea poi un altro luogo particolare che diventa il centro focale di quella che è la città greca, quello che i greci chiamavano Lagorà. Lagorà è in realtà semplicemente una piazza, ma ha una funzione sociale di altissimo rilievo. E guardate che credo questo fenomeno è caratteristico già nel mondo greco, ma arriva fino ai nostri giorni, perché la piazza, che è uno spazio aperto dove la comunità cittadina sempre si può radunare per le funzioni sociali che competono appunto alla popolazione, è un luogo indispensabile, è inimmaginabile pensare a una città fatta soltanto di vie di strade dove non ci sia uno spazio per l'aggregazione sociale. Non dimentichiamo che Lagorà, che è l'equivalente della nostra piazza moderna, era il luogo dove la comunità della polis greca si trovava per i momenti appunto collettivi. Potevano essere momenti rituali piuttosto che momenti di carattere politico, potevano anche essere momenti di carattere economico, del resto il mercato, il commercio delle varie produzioni che venivano svolte nella polis greca si praticavano appunto nell'agorà. Quindi già nel mondo greco questo spazio sociale diventa fondamentale per la vita di una città. Ecco, nelle immagini possiamo scorrere quella che è la caratteristica di una ricostruzione evidentemente di quella che era l'acropoli di Atene. Atene è la città che forse più di altri ha mantenuto questa tripartizione di quelle che sono le zone cittadine e tutti quanti, chi avrà avuto magari occasione di visitare l'acropoli di Atene, sa che oggi ci sono i resti dei grandi tempi che rappresentavano il momento religioso della polis, il famoso partenone di cui esistono appunto dei grandi resti, poi altri edifici come i propilei, l'ereteo piuttosto che altri edifici che appartenemano a quella che è la zona santa, la zona sacra del culto cittadino. In queste immagini vediamo appunto quelle che sono la ricostruzione e la collocazione dei diversi edifici, il partenone piuttosto che l'ereteo dove c'è la famosa loggetta delle cariatidi, piuttosto che il grande ingresso dei propri lei e magari il tempietto di Atene Aniche. Basterebbe ricordare che tutta la città di Atene era consacrata ad Atene Aniche che era appunto Atene Vittoriosa e lo stesso nome della città indicava quel riferimento alla divinità che la proteggeva. Ecco nell'immagine invece in questo caso di epoca contemporanea possiamo invece vedere quelli che sono i resti archeologici dell'acropoli, però vediamo molto nitidamente che l'acropoli è proprio questo rialzo, questa collinetta, collinetta naturale in un certo artificiale dove sono collocati i diversi luoghi del culto della città greca. In un altro plastico che colloca l'acropoli all'interno di quello che è il territorio appunto della città di Atene vediamo come appunto tutta la zona residenziale attorni a questo centro storico che è appunto la zona dell'acropoli. In un'altra immagine dove potremmo dire ruotando su diversi punti cardinali vediamo sempre il perimetro di quella che era la zona residenziale di Atene e al centro della città sempre il luogo sacro, il luogo del culto agli dei. Ho detto in precedenza che nella urbanistica della città greca in origine la zona che poi diventa acropoli luogo del culto degli dei era in origine il luogo del palazzo dei re. Tutti quanti sappiamo che la società greca è quella che più di altre ha elaborato forme politiche sempre più avanzate, più complesse. La monarchia scomparirà abbastanza presto nella storia greca per prendere il posto di altre forme di governo. Le diverse città che hanno appunto vivificato quella che è la storia di questa parte del mondo antico siano in qualche modo ripartite e con criteri diversi. Atene sarà la patria della democrazia, Sparta ad esempio sarà la patria della aristocrazia e quindi in un mondo dove inizialmente c'era la figura del re che era il governatore, il reggitore della politica cittadina, si studieranno appunto i diversi organismi di carattere più rappresentativo in questo senso anche democratico. Ad esempio nella città di Micene possiamo vedere proprio come la zona centrale era destinata alla presenza dei palazzi reali. Questa cartina dell'Italia meridionale ci dice chiaramente come questa parte della nostra penisola è stata fortemente marcata dalla presenza della civiltà greca. Tutti quanti sappiamo che l'Italia meridionale per i greci era detta la Magna Grecia, cioè la Grande Grecia. E allora possiamo notare lungo il perimetro delle coste dell'Italia meridionale quante colonie i greci hanno fondato proprio come luoghi di espatrio, luoghi di nuova attività commerciale che i cittadini greci andavano formando nel Mediterraneo. Basterebbe percorrere appunto questa linea della costa italiana, troviamo Cuma a nord di Napoli, una delle più antiche colonie greche, la stessa Napoli, Niapolis, nuova polis, nuova città e sicuramente una città di fondazione greca. Per passare poi ad esempio alla Sicilia dobbiamo Siracusa, abbiamo Agrigento e quindi percorrendo questo perimetro appunto dell'isola siciliana vediamo quante sono le presenze greche appunto nella Magna Grecia di un tempo. La Calabria del resto non è meno esente dalla presenza di colonizzazioni greche. Questa foto aerea ci mostra ciò che è rimasto veramente pochi resti a dire la verità di quello che era l'insediamento originale appunto della Cuma, città greca alla nord di Napoli che segna la presenza di questa civiltà nel nostro territorio. Siamo attorno al 1050, quindi quasi undicesimo secolo avanti Cristo, una data molto significativa per capire come da tempo il mondo greco aveva colonizzato l'Italia meridionale. Ecco anche nelle città di fondazione greca, queste polis, comparirà a un certo punto una struttura che diventerà paradigmatica, cioè proprio un modello canonico che si ripeterà sostanzialmente sempre all'infinito. In questo caso vediamo una ricostruzione, sono molto pochi i resti archeologici per poter immaginare tutta la complessità delle città greche, però questi disegni che in qualche modo si affidano a quelle che sono i resti archeologici fanno vedere che anche nel caso specifico di Sibari, città della Calabria italiana, lo schema della polis rispecchiava perfettamente le indicazioni che abbiamo dato all'inizio del nostro percorso. Ecco qui la zona dell'acropoli, quindi la parte alta con i templi, un grande spazio aperto che era poi la Gorà, la piazza, il luogo della vivibilità della comunità cittadina che si dava riunioni in questo spazio e poi diversi edifici residenziali che in modo più o meno ordinato si dispiegavano lungo gli assi viari appunto della città stessa. Un altro modello, si parla sempre di disegni di ricostruzione perché non abbiamo degli grandi resti archeologici di intere città del mondo greco. Nel caso specifico la nostra immagine sta scorrendo su quello che era la pianta di Locri, altra famosissimo centro della Calabria italiana ma che è di appunto fondazione greca. Anche in questa piantina ricostruita evidentemente notiamo la zona alta dell'acropoli tutta quanta spostata in un lato della città, quindi era un'emergenza che anche da un punto di vista geografico era sempre visibile al centro o sul lato di quello che era il tessuto urbano e poi in questo caso proprio al centro del tessuto di Locri vediamo quella che era l'agorà della polis greca. Quindi questa tripartizione acropoli, agorà come piazza e quindi astu come zona residenziale e tutto il territorio circostante veniva riproposto periodicamente in ogni fondazione di Colonia. Anche Selinunte, Selinunte sappiamo è un famosissimo centro archeologico, oggi sopravviva uno dei grandi templi appunto di ordine dorico, l'architettura più massiccia nella storia dell'architettura greca, ecco anche Selinunte aveva questa pianta organizzata secondo il modello delle città greche. Vediamo subito due grandi assi viari, due grandi vie che si incrociano, una vera e propria rete ortogonale e poi i luoghi che erano appunto destinati alle diverse funzioni, dai luoghi dell'acropoli piuttosto che i luoghi dell'agorà che appunto è lo spazio cittadino. Proseguendo sempre da Selinunte, è una vera e propria cavalcata nella magna grecia dell'Italia meridionale, troviamo quella che è la mappa di Siracusa. Siracusa è una città particolarissima, chi l'ha visitata se ne sarà sicuramente reso conto. Siracusa è costruita su una penisoletta che si protende sulla costa siciliana nella parte meridionale dell'isola e vedete com'è articolato questo spazio urbano di questa colonia greca. Altri disegni che ricostruiscono quello che è il tessuto urbano di Siracusa ci dicono di questa zona residenziale più sulla costa e il vecchio centro storico con la zona sacra, il culto degli dei sempre l'acropoli, in questa parte che si protende in questa penisoletta che avanza appunto dentro le acque marine. Questa foto d'aereo di una Siracusa moderna evidentemente ci fa proprio percepire com'era organizzata da un punto di vista urbanistico questa città. Siracusa, costa meridionale della Sicilia, un'altra grande colonia della civiltà greca presente nel nostro territorio. Passiamo poi a quello che è una città fondamentale nella storia dell'urbanistica greca in Italia. Neapolis, nuova polis, la nuova città, e la nostra Napoli, la nostra Partenope. Vedete che in questa ricostruzione sono individuati in modo preciso tutti quelli gli elementi che abbiamo indicato come caratterizzanti l'urbanistica del mondo greco. Ecco qui la parte dell'agora, quindi la parte dove ci sono lo spazio cittadino, piuttosto che quella che è la zona appunto dei templi che sono collocati in un'altra zona. Vediamo che la Neapolis antica non era affacciata sul mare. Nel corso dei secoli la città si espanderà fino a toccare appunto il lambire la costa del mare, nel famoso golfo di Napoli, come tutti quanti ben sappiamo. Questa traccia così veramente evanescente di una cartina postuma rispetto alla fondazione greca ci dice come nella Napoli antica c'era veramente quella tripartizione che abbiamo visto caratteristica potremmo dire tipica della città greca e come successivamente la città si sia espansa fino a lambire appunto le coste del mare. Napoli rimane sempre un prototipo importante di quella che è l'urbanizzazione greca nella nostra penisola. Ecco sempre insistendo un po' su quello che è la tipologia del tessuto urbanistico di Napoli vediamo rispetto al disegno precedente qui riproposto quello che è il vecchio centro della Napoli greca che è un po' il cuore antico della Napoli anche di oggi che poi nel corso dei secoli ha avuto modo di espandersi particolarmente fino appunto a lambire la costa del mare. Questa pianta molto più tarda, siamo in una Napoli probabilmente del XVII secolo quindi periodo spagnolo, vediamo però come è ancora possibile individuare in questo tessuto urbano da questa viabilità così regolare delle strade che si intersecano a 90 gradi quello che era il vecchio centro storico della colonia greca mentre questa mappa dicevo molto più tarda ci fa già intravedere quello che è la zona del castello del maschio angioino che è uno dei monumenti più celebri appunto che riconoscono appunto in questo edificio uno dei simboli della città e poi quello che è appunto tutta la costa del mare che oggi è il giusto coronamento di quello che è il tessuto urbano di Napoli. Bisogna ricordare che tutto questo schema urbano nasce forse dalla mente pensante di un personaggio importante nella storia greca, Ippodamo da Mileto. Mileto era una colonia greca sulle coste dell'Asia minore, l'attuale Turchia, ecco ce ne parla anche Aristotele. Ippodamo è forse il primo, usiamo questo termine moderno, urbanista che non ha pensato solo a un edificio o a un luogo particolare da un punto di vista architettonico della città ma ha voluto dispiegare il suo progetto su tutto quanto quello che era il tessuto di un'intera città e allora sentiremo parlare di Ippodamo da Mileto come il primo urbanista della storia dell'Occidente antico che ha in qualche modo pensato tutta la struttura cittadina, dando questa impronta che resterà fondamentale nel corso dei secoli attraversando sia il mondo greco poi quello etrusco e giungendo quindi fino al mondo romano dove sarà in qualche modo riproposto questo schema cittadino, questa mappa reticolare di strade ortogonali, le strade che si incrociano perfettamente a 90 gradi delimitavano quello che noi oggi chiamiamo l'isolato, quindi quella porzione di città dove si costruiscono gli edifici residenziali. In questa pianta di Ippodamo da Mileto vediamo proprio quello che è lo schema che questo urbanista, usiamo questo vocabolo specifico, qualcosa di più di un semplice architetto, ha realizzato appunto in questa colonia greca ed è visibilissimo guardando la mappa della città come il tessuto urbano è tutto quanto regolato da questa maglia ortogonale come una grande scacchiera ma riconosciamo anche all'interno di Mileto, la città di Ippodamo, questo architetto antico, di nuovo lo spazio appunto dell'agorà è quello che è la zona dell'acropoli quindi immediatamente vicine. Vedete che questo modello verrà perpetuato praticamente all'infinito, aveva una sua praticità, aveva una sua funzionalità in quella che era la gestione di una città greca. Una grande città impostata sul modello della colonia greca è stata la città di Alessandria d'Egitto. Sicuramente l'Alessandria d'Egitto che noi vogliamo mostrare in queste immagini non è quella dei faraoni della civiltà egizia anche perché delle civiltà antiche sicuramente esistevano nelle grandi città ma non abbiamo elementi storici sufficienti per avere indicazioni precise di come le civiltà antiche penso gli egiziani piuttosto che a Siria e i babilonesi abbiano organizzato le loro città. Mentre vediamo un'Alessandria d'Egitto che è già del periodo cosiddetto ellenistico. Basterebbe ricordare che questa città viene fondata in onore proprio di Alessandro Magno che durante le sue guerre di conquista ha invaso, conquistato, sottomesso anche l'Egitto e sulle sponte del Mediterraneo, su quella che è oggi la costa egiziana, ha voluto la fondazione di questa grande città che ne porta il nome. È una delle poche città fondate da Alessandro il Grande che porta ancora il suo nome anche se diverse sono state le presenze in diversi luoghi del grande impero persiano che Alessandro ha sottomesso e conquistato con i suoi eserciti. Ecco anche nella pianta di Alessandria, Alessandria d'Egitto, vediamo che la ripartizione del tessuto urbano ha mantenuto perfettamente quello che era lo schema greco, una grande viabilità articolata su delle assi viari perfettamente ortogonali che delimitano quelli che sono i diversi isolati, le zone dove erano realizzate appunto le dimore abitative degli abitanti rispetto a quello che è in realtà la città cosiddetta più importante, quello che era la zona sacra qui all'interno, poi il grande porto, Alessandria era comunque una città di mare, mantenendo quello schema urbano che i greci sempre hanno riproposto appunto nelle loro fondazioni. Vediamo allora come in altri disegni che con colori diversi in qualche modo cercano di articolare quella che era la storia urbanistica di questa città antica, abbiamo la parte della città reale che è questa, il quartiere dei mercati, guardate com'è prospicente proprio la Gorà, era indispensabile che in ogni città ci fosse uno spazio aperto dove la comunità poteva avere il suo momento della vita sociale, che fosse la zona del mercato piuttosto che il momento dell'incontro politico, piuttosto quello dell'incontro appunto per il culto religioso. Non dobbiamo dimenticare che Alessandria d'Egitto aveva anche qualche elemento di grande importanza architettonica, tutti forse ricordiamo che si parla nel mondo antico delle sette meraviglie del mondo antico. Ebbene, in questo plastico che ricostruisce quello che era il porto in forma esagonale sulla sponda appunto di Alessandria d'Egitto, non dobbiamo dimenticare che nella parte più avanzata di quello che era la banchina del porto c'era il grande faro di Alessandria. Dicono le fonti, Erodoto e gli altri storici antichi, che era veramente una costruzione ciclopica. Si parla di un'altezza di 134 metri, veramente un'enorme torre che si stagliava sul profilo del mare, e dicono le fonti antiche che il faro di Alessandria, che è un po' l'emblema di questa città ellenistica, si vedeva distante nel mare fino a oltre i 40 chilometri. Ovviamente del faro di Alessandria oggi non esiste più nulla, però era veramente il vanto e l'orgoglio da un punto di vista urbanistico di questa grande città ellenistica, quindi nata dalla matrice di quella che è stata la grande cultura greca antica. Con questo percorso abbiamo in qualche modo iniziato questa serie di incontri, che appunto Piero da Saronno testimonierà con i suoi filmati, per fare una vera e propria carellata nell'ambito di quella che è stata una breve storia dell'urbanistica.